Allora squadra in vero, aspetta, aspettate ragazzi, ripartiamo, quindi vai, un attimo, state 1 a 0, perfetto, quindi adesso le coppie sono invertite, abbiamo Thea con il nero che fa da braccio, e Lorenzo fa da mente, poi abbiamo invece l'altra squadra, allora Alberto fa da mente, non mi ricordo il nome, Andrea, fa da braccio, perfetto. Voglio chiamarlo Alessio però nel senso, ha un gemello identico, va bene, ok, buona partita, ok, buona partita ragazzi, pedone, si si incarichi, pedone, cavallo, vi ringrazio, pedone, ok, brava, pedone, No, non lo so, pedone, va bene, va bene, solida, alfiere, alfiere, pedone, brava, pedone, Pedone, alfiere, torre, cavallo, che veloce che è, premù, premù, pressione, fa il pedone questo. Non è che mi entusiasmi, no, non devi crederci, devi crederci, vedi, 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 re, su Andrea, potevi fare 5, no, si fa, non si fa, si, stiamo un po' peggio, ma si gioca, io ho cercato 5, e ora penso tutto il.. ma come fai ci sentiamo benissimo, io volevo dare matto ma che matto? ormai è finita dovresti saperlo anche tutti i bianchetti ormai 4 non ho niente arabo ma si era vinto ma vinciamo adesso allora fai donna ma pensavo donna di 3 così in tutta la foto è il G6 ma concio cos'era? pedone ma conciano il loro tempo pedone potrei fare una roba strategicamente terrificante? vai non lo so, non lo so, io ho fiducia in te ok oh mi pare le mosse faccio che mi hai eh ma non è sempre così facile il giusto lo zionica in sede allora, volevo fare pedone si bravo ok è vinta, è vinta si vede che è cultura è nostro schiacchistica me lo mangio questo eh magna, è lo pedone un po' B3 no se la facevo prima o non ce l'abbia 5 sotto? si, però ci poteva stare no va bene anche così, va bene pedone brava brava eh bravo vediamo brava brava ah ok ok brava io ma io bravo uff si si è normale che qui non devo scegliere io anche a me piace questa ah si per il nero abbiamo già minuto il P4 non c'entra niente no no ci sto ci sto si grazie la ringrazio per la cortesia bene allora è deciso importante questa però ecco ma ne abbiamo già anche sopra di tempo sopra decisione che richiedeci tempo Lorenzo non c'è materiale in più in questo momento no non c'è non c'è un cavallo anche pedone eh si mi spiace eh no neanche a me però volevo voglio farvi sentire tranquilli così poi tac confidente ah non ci sa che questo eh pedone calcoliamo meglio di loro brava ce n'erano tanti vabbè 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 altiere tucca a me bello cioè peggio per te Andrac io fossi in te ah no non è che non è che si non capisco non capisco ecco stavo pensando sai cavallo è vero cavallo però diciamo la giochiamo sul tempo ce la giochiamo ai secondi cavallo brava calcoliamo meglio noi calcoliamo meglio noi dai zitto eh dopo lo stage di preparazione non ce n'è per nessuno non succede nulla non succede ma si succede si vabbè al fiere bello il nero non piace bianco ti piace bianco ti piace bianco non capisco al fiere non so se questo è bianco non so è ottimista quello di solito si quanto tempo abbiamo? un minuto in più no cantiere cavallo torre 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 l'alfiere era questa si si questa è solida così solare ci sta ci sta ci sta vabbè alfiere pedone il primo uvo alfiere alfiere erai quattro eh si alfiere ora ora è purtroppo sbagliato è vinta è vinta è vinta è vinta è vinta è il potere della mente che si salvano sempre eh calcoliamo bene noi calcoliamo cosa cavallo era tutto secondo te dai ho fatto alfiere si si peccato ah abbiamo a che fare con persone che non sono normali torre dall'organizzatore agli amministratori eh lo passo lì vabbè c'è non c'è la non sono dei professionisti sono praticamente la strada wow cavallo non sono sicuro che sia un mussone questo si mi dispiace per l'inconveniente no no, non voglio dare io che ho fastidiotto no ci mancherebbe abbiamo un canale youtube eh e andiamo avanti compra c'è compra scacchia e passione c'è meglio avanti che grandi che grandi ragazzi donna, donna sono rimasto molto confuso con questa torre a tre te lo dico l'hanno di nuovo mossa non so dove mettere la donna però come raddoppiamo in fretta adesso le torre sono più in fretta due raddoppiarle intanto ci pensiamo dopo va bene c'è l'impotenza poi è la cosa migliore per la donna ma non l'ho capito c'è il senso la donna dopo cioè i pezzi dove stanno bene che burro che è questo dolore è brava è stivali dopo comunque ma ehm pedone torre in premugo va bene prendo atto che vuoi fare questo guido prendi atto 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 è così devo fare allora guarda che mutenza di porta prendo atto è così eeeh allora cazzo ci blocca un conto reticino eh l'ho vista nooo c'ho persa ma dai ma che culo loro calcolano meglio di dove andare ma noi noi vinciamo strategica non serve calcolare non serve calcolare non serve calcolare vabbè io ho pedone fa così no eeeh Alberto non farebbe mai Alberto vuole fare H3 o G3 al mostro G3 poi si ricordano anche la fiera si ricordano cobra scacchi e passione cobra scacchi e passione segui il tuo cuore Albe segui il tuo cuore Albe si madonna torre torre eeeh pedone è buono è buono abbiamo uno in più abbiamo uno in più e posizione anche tu sai che cavallo città 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 è vero posto ah sei ah pedone grazie Albe ringraziamo no 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 c'è proprio una cosa brava calcoliamo meglio di loro male questa eh male ah no dai tutto giusto come deve andare ah beh donna no beh ormai si hai ragione stavolta ho un po' sbagliato io una volta può capitare dici eh si non sono una macchia eh si non parlava di tre eh donna si si dai donna donna e quindi compenso l'apita ma si adesso lo troviamo un minuto e venti anche un minuto e venti anche abbiamo 40 secondi torre donna non tu vuoi fare il pedone si devo dire però vabbè tu vorrei fare i tre almeno è utile però oggi pomeriggio che vedo queste cose nelle ultime parole famose oggi prendi io la rimetto qui va bene ehm prendi tutti cavallo torre è difficile ah è prego prego pure davanti si si tanto non c'è problema grazie ma c'è nel bimbo cagare è ovvio che gli favo no vabbè ha paura di niente brava ha paura di niente rispetto a te questo è una mossa passiva si bevi bevi no no stai sotto eh per forza no la faccio mai eh troppo no vabbè f8 ma che f8 ma che f8 non perde niente lo so però torre di 8 quando proviamo? ok abbiamo 20 secondi eh torre bisogna combattere idea dominiamo torre c2 ve la potevo anche donna centralizzazione cose semplici cavallo torre 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 perché f9 non so ma che f9 ho paura ma che f9 perdiamo tanto era perso anche prima quindi su donna re ah no allora cavallo stiamo calmi brava ehh donna ehh ehh perché vedo cavallo oh bello 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 no 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 anche torre b2 torre b2 è la più facile torre b2 via donna sposti è male giusto così la quartuta non te l'aveva aiuto cavallo perché? quando? torre per f3? si no vabbè cioè vince però è più facile torre b2 e basta torre b2 sposti indietro no no champagne vabbè champagne scacchi champagne solo sul canale del cobra ci sta ci sta eh niente vai ci dai mezzogiorno possiamo giocare il cobra ciao ciao Grazie a tutti